Amici di Trebimete, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato. Vediamo come in Europa la perturbazione che sta interessando l'Italia ancora insisterà su gran parte della penisola, seppur in graduale indebolimento, però vedete come nel vicino Atlantico siano attive altre perturbazioni che poi torneranno a interessare l'Italia nel corso della prossima settimana. Ma andiamo con ordine e vediamo la nuvolosità presente nella giornata di sabato ancora diffusa su tutte le regioni, specialmente al centro-sud, qualche schierita in più sulla Valpadana al nord-ovest, ma in un contesto ancora variabile. Dunque le piogge attese saranno ancora abbastanza significative su gran parte d'Italia, in particolare al centro-sud sul versante terrenico, ma anche sulle Alpi e sulle zone prealpine pioverà per gran parte della giornata. Dunque la previsione per sabato ci aspetta una giornata ancora piuttosto nuvolosa ovunque, piogge rovesce anche temporali su gran parte del versante terrenico e poi al sud, un po' meglio soltanto sulla Sardegna, sulla Sicilia meridionale e al nord-ovest con un primo parziale miglioramento del tempo. Vedete le temperature che rimangono sempre piuttosto elevate per il periodo, con massime tra 20 e 26 gradi su tutta l'Italia. Per il momento è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trebi Meteo.